Ah, devi salire, Giulio? Sì, devi salire. Sì, devi salire. Sì, devi salire. No, lo vuole, che non ce l'ha. Che brutti ciocchi che ha fatto. Sì, spostati di lì perché devi prendere la quattro andando in là. Sì, andare in là la quattro, è brutta la quattro, è laterale. Perché c'è una balestra tutta chiusa? No, era la posizione. Vabbè, adesso deve solo uscire. Ah, c'è lui. C'è lui. C'è lui. C'è lui. C'è lui. C'è lui.